E' un regalo per il popolo con la libera del governo di Aruba, con la libera di un popolo non democratico e con il popolo di un popolo più turco, con il popolo che ha un'opportunità un po' di fare una urna elettorale e con il popolo di un popolo senza comere fraude, senza desqualificare il voto del partito politico. E' un popolo più vigilante per il popolo e per curare, non solo per il popolo di abuso, ma per il popolo di aumentare il prezzo drastico, mediteri a traste mediter, e l'engagio contro il popolo, ma anche per il popolo di regola derlame del paese. E' una buona cosa, si serve solo per stare un popolo con un governo che ha il principio non democratico, come no noi, no sono Venezuela, noi, noti la Russia, quindi apoi in questo momento alle risponde ci saranno gli dannati e aiuti a Yudh Niro e la Crescente per dareli altri regolini della democrazia, però quando a fine non conscienzia, ci siamo, perché la democrazia separa la creazione della constituzione del paese, che si è avuto con il governo. E mi chiede che il popolo qui, dopo che abbia tanto maltrato e tanto soffrimento, dore il ministro presidente che non solamente abbia il popolo con le dita per entregar l'autonomia del paese qui in Holanda, che vanno contro il suo messaggio in questo paese. Inoltre a cercare il popolo qui, che vanno a discutere con il popolo, a mettere un miglior arreggio, a mettere in un'imposizione con il nostro paese, la signora qui spera che il popolo arriva, e non può mantenere nessun governo, se il primo governo c'è, vanno a vedere che si parla. Però se vuoi due governi c'è, ora non si parla in conclusione di questo problema. Poi, io ho avuto una possibilità di liberare il suo messaggio di un signore che non si parla per il popolo qui, ma non si può essere un giorno passare, è un unico politico che ora va a andare. La investigazione è molto bene, l'autonomio di AVP ha chiesto, è un'imposizione centrale di investigazione, e l'ho percorso, per pubblicare anche, quanti milioni avanti in saco, quanti milioni avanti in saco, 10 persone qui, e non lo metti in saco, che è un'imposizione con il popolo. La situazione è stata un'imposizione, è un'imposizione di abbastanza tempo, e l'hier ha culminato, in un dato momento, un Presidente del Parlamento, si soparà, per dare una declarazione, e di una maniera lastimosa, che non si parla, e l'Awe mi chiede di debattere, e in tutto il caso, la nostra posizione, la postura, è stata un'imposizione, una nostra forte con l'opposizione, così, l'importanza della situazione, e quindi, l'Awe, la situazione è stata un'imposizione, qui è stato molto difficile, è stata una riunione, ti aspetto, non ti asso di rilascio, il carattere di rilascio, ti asso cambiare, magari, trovi un punto di arduo, non ti asso, non ti asso di arduo, anche, in tutto il caso, io sono prende un punto di arduo, quindi la regione è stata con la votazione che si chiede a parlare e le regioni di una notazione che ci sono the firstezza e risultati a 50% di una notazione che ci sono in contatto e a culminare con la notazione che ci sono in contatto per esempio la ministra Elsa Arans con i tassisti con i tassistici, il paese sugi. Tutti un po' è tipo di tanto, io voglio mettere un popolo, un po' è tipo di risp Venite, un governo che non ci sta bene. Che adicchiamo a determinare insieme a un governo, non si soggiorno, non ci soggiorno, non ci ha successo come, non si cuida il medico con questo modo, non si soggiorno, che non sia pago per la medicina. Tutti un po' è incluso, di un governo malo che ha riflettuto anche il Parlamento e il Presidente del Parlamento qui deve accomodare il governo continuamente. Tutto cosa che il governo vuole, non ci sono presidenza di nessuna comissione, quindi è il momento che ha riflettuto da forma che la Opposizione Unica e la Sina manda, per promovere la storia, manda un Presidente del Parlamento. Quindi la Opposizione non è possibile, ora che c'è un accordo politico tra i partiti diversi, non ci sono riusciti alla discussione, ma anche in maniera con bago, non è riuscita alla riunione, come la Commissione della Opposizione Unica ha un matrimonio, ora il matrimonio è quibra, ma anche la persona del Parlamento, di una maniera che non è integro, non è bravo la corruzione, non è voto con l'AVP, ci sono riuscita sempre nella propria, e in un dato momento mi ha chiesto che il governo è riuscita a fare questa situazione, il governo è merece un cambiamento, e noi potremmo una nota anche con l'Evilina, che va a entregar il suo ritiro del gabinetto, per la elezione, e in tutto il caso, non sta paraclare.